Per non perdere l'autonomia, i docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti di Fano hanno lanciato l'idea di trasferire il biennio dell'Agrario Cecchi di Pesaro nella sede succursale nel quartiere di San Lazzaro. Un'operazione che a differenza del sito del Codma di Rosciano permetterebbe alle istituzioni di risparmiare, visto che nella loro struttura hanno sia classi che laboratori disponibili, ma anche i docenti stessi. Il piano studi di entrambi i bienni è composto infatti da materie per la quasi totalità uguali. Questa era la richiesta fatta a nome dei professori dal vicepreside del Battisti Pierpaolo Giorgi. Abbiamo fatto una proposta al sindaco in primavera, non ci è arrivata risposta, abbiamo avuto un altro incontro in ottobre, però la risposta sembra sempre che il Codma ormai è andato troppo avanti. Ma non si capisce cosa vuol dire questo troppo avanti. Noi vorremmo solo che la collettività capisse che qui ci sarebbero le stesse opportunità a costo zero. A questa richiesta ha risposto l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, il quale sottolinea che in questo tema il potere decisionale non appartiene al comune di Fano, bensì alla provincia di Pesaro e Rubino. La competenza per tutto il piano di riorganizzazione scolastica aspetta infatti all'ente provinciale di cui fa parte, come consigliere, anche il sindaco di Fano Massimo Seri. L'ipotesi di ospitare da un punto di vista organizzativo e logistico le classi della sede staccata dell'Istituto d'Agrario prossimo anno scolastico è un'ipotesi sulla quale si può ragionare laicamente e credo lo farà anche la provincia di Pesaro e Rubino. Sicuramente bisogna comunque ricordare che il percorso che da tanto tempo si è attivato e che ha visto tutti gli enti interessati d'accordo è quello comunque di attivare sul territorio del comune di Fano una sede staccata dell'Istituto Cecchi e credo che questo sia un punto fermo. Poi alcune soluzioni di prospettiva anche da un punto di vista organizzativo e logistico io credo che possono essere prese tranquillamente in considerazione.